Siracusa nasce nella balza credina il giardino della città solidale. Con la denominazione giardino della città solidale è stata dedicata stamane l'area verde di circa 4.000 m2 della parte superiore della balza credina a lungo via dell'Olimpia, della quale sarà caratterizzata dalla forte presenza di alberi e piante della specie mediterranea. La progettazione e conseguente piantumazione si devono all'iniziativa di Marika Cirone Di Marco e Alida Scaletta. Attraverso il loro impegno nelle attività promozionali della società sport e cultura le due siracusane in quegli anni ottennero il riconoscimento premio di un sostegno economico alla realizzazione di un'opera di valenza sociale e la individuarono appunto nella creazione di un giardino cittadino. Quello spazio sulla sommità della balza credina dove oggi sono felicemente attecchite alberi e arbusti. 25 anni fa era un angolo degradato di città, erbacci, rifiuti, resti di una rudimentale bottezza e la lega abusiva negavano ogni dignità a un luogo prospicente, uno dei panorami più suggestivi della città. In questo Stato fu preso in cura, fu ripulito, riempito di terra buona, progettato con piante mediterranee, piantumate e accodito nei mesi a seguire. Man mano che il progetto si definiva, cresceva l'attenzione e la solidarietà di quanti a livello istituzionale vi venivano coinvolti, il Comune, la Superintendenza del Bonito Culturale, l'Azienda Forestale, la Scuola Tucidide, la Saggeas. Quando il lungo e delegato lavoro fu completato, la festa di inaugurazione vide la presenza di tutti i soggetti coinvolti e di una folta delegazione di scolari. Questa mattina il Giardino di Via dell'Olimpiade ha un nuovo momento pubblico in occasione della sua intitolazione, quello che per anni è stato solo uno spazio bello, rigoglioso, fiorente, senza nome, è stato conosciuto dai siracusani che l'hanno ricevuto in dono come il Giardino della Città Solidale.